Ultima di stagione regolare in vista per l'Aquila di mister Roberto Cappellacci, al Gran Sasso a Concia arriva il notarisco. Ospiti che dopo un campionato più che buono hanno centrato e archiviato l'obiettivo della permanenza in categoria, ma d'altro canto non possono più raggiungere il treno playoff. Saranno quindi liberi da ogni pressione e potranno giocare a mente completamente sgombra. L'Aquila che domenica scorsa ha visto svanire il sogno della promozione in Serie C pareggiando a Termoli, è invece matematicamente seconda in classifica e può iniziare già a guardare alla semifinale playoff in programma il 12 maggio. Brunetti e compagni però con il notarisco andranno comunque a caccia dei tre punti. Vincere infatti permetterebbe all'Aquila di migliorare la sua media punti e questo, in caso poi di successo finale nella fase playoff, sarebbe l'indicatore fondamentale a cui in Lega si andrebbe a guardare per stilare la graduatoria delle nove vincitrici degli spareggi disputati negli altrettanti gironi di quarta serie. Il tutto per tenere viva l'ipotesi, difficile va detto ma nella vita mai dire mai, di un ripescaggio in Lega Pro. Di fronte comunque l'Aquila avrà un avversario di assoluto valore ed assai ostico. A testimoniarlo ci sono i due precedenti stagionali con il notarisco mai battuto fin qui dall'Aquila. Fini infatti 0-0 sia la gara di andata disputata prima di Natale al Savini, sia la partita che in agosto, aprendo la stagione delle due compagini, era stata valida come turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. In quel caso poi alla fine furono i notarischini ad imporsi dopo i tiri di rigore.